Cavoli, quel dolcetto sembra appetitoso, un po' lo vorrei. Solo un po', eh? Oh, sei un drago. Lo vuoi solo un po'? Oh, lo vuoi, lo vuoi? Eh, io, io lo voglio, voglio mangiare quel dolcetto, sì. Allora prendilo. Sì, io penso che... Si foda ciò che pensi! Eh? Muove il culo e va a prenderlo. Oh. Nessuno lo farà per te. Mmm, posso fare un pisolino prima? No, ma che cazzo, no, non fare la troietta e prendi ciò che vuoi! Ma se tipo cadessi dalle scale, amico, sarebbe così imbarazzante. Allora prendi da quell'errore e prova ancora. Ah. Se vivi sottomesso dalla paura, non raggiungerei mai il tuo pieno potenziale. Così va la vita. Ah, io credo tu abbia ragione. Certo che ho ragione, sono un magico cazzo di drago. Beh, io vado. Ma, ma che diamine? Oh, cavoli! Oh, sì, può accadere. Nessuno ha detto che la vita è giusta. Ma che cazzo? Oh, sì, può accadere. 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 Grazie a tutti.